Come Inarc siamo molto contenti di poterci incontrare finalmente in presenza e devo dire che questo evento ci vede come apripista, speriamo, di una serie di eventi che continueranno anche in futuro. Abbiamo affrontato il tema dello stadio di San Siro pensando che il progetto debba essere guardato da un punto di vista ampio perché coinvolge non solo i quartieri che si affacciano verso lo stadio ma tutta la città. E quindi per noi come Inarc che da sempre è attenta alle trasformazioni importanti della città analizzare questo tema è diventato prioritario e in questo periodo pandemico in cui eravamo obbligati a rimanere all'interno delle nostre case abbiamo sfruttato questo periodo per costruire questo evento e questo dialogo tra le persone. Forse questo è uno dei vantaggi di questo periodo e anche il fatto che comunque ci ha dato appunto la possibilità di non arrivare a questo incontro come tante altre volte ma di poterlo preparare, sentire le persone già acquisire i loro pareri. Questo lavoro preparatorio è stato molto importante quindi credo che quello che questa sera affronteremo in particolare è proprio uno sguardo allargato sulla città, la presenza all'interno del quartiere di San Siro di quartieri eterogenei tra di loro oltre a grandi infrastrutture verdi e a tutti gli impianti sportivi che compongono il quartiere stesso. Il progetto per il nuovo stadio o per la trasformazione dell'area di San Siro dà senz'altro l'occasione di riflettere su quello che sta succedendo a Milano e su quanto potrebbe essere introdotto per correggere un po' le traiettorie che abbiamo visto. A che cosa mi riferisco? Quali sono gli elementi critici di questo sviluppo che sicuramente ha conosciuto una narrazione molto felice che ben conosciamo di città dinamica, europea, globale? E quello che probabilmente si è perso, io parlo da urbanista quindi proprio dal punto di vista urbanistico è il senso della regia pubblica. Allora questo rapporto pubblico privato che evidentemente è un rapporto centrale nella costruzione della città contemporanea può essere declinato in diversi modi quindi senza essere ideologici e come dire in una logica di opposizione al ruolo del privato che è senz'altro molto importante sicuramente l'amministrazione che riveste un ruolo pubblico potrebbe tenere una regia più decisa. Nel caso di San Siro questo ad esempio è evidente perché intanto il Comune sembra molto rispondere a una sollecitazione e non guidare cioè non ha questo ruolo di driver dell'operazione e in più ci sono delle evidenti contraddizioni o quantomeno rischi che sembra che non vengano tenuti sufficientemente in conto ad esempio cosa accade nella diacente area dell'extrotto? È inclusa nella realizzazione o è trattata a parte? Questo lo dico perché l'abbiamo visto negli ultimi anni, spesso ci sono sequenze di operazioni molto ravvicinate ma in assoluta contraddizione fra di loro comunque occasioni mancate di coordinamento pensate all'area est sul quartiere di Lambrate dove c'è una sequenza di grandi aree di trasformazione a partire dallo scalo passando per un'area dismessa fino all'ex area di rubattino un sistema molto importante che ha visto svilupparsi per episodi io ad esempio ho trovato anche molto strana la scelta di avviare l'operazione della grande torre della 2A in piazza Trento prima del masterplan di Porta Romana ecco io credo che queste cose andrebbero evitate e in altri termini assieme a una rigida pubblica io penso che avremo davvero un po' bisogno di una visione strategica se non per l'intera città perché poi conosciamo la velocità delle trasformazioni e anche la necessità di cogliere alcune opportunità quindi sicuramente una visione che sia un quadro flessibile ma che fissi alcuni paletti e che curi il coordinamento delle operazioni un'ultima osservazione riguarda le ricadute alla scala locale delle operazioni anche questo credo che sia un elemento molto importante San Siro in questo è un progetto cruciale molto delicato conosciamo il quartiere ha molte qualità e risorse ma anche molte debolezze ci sono situazioni anche di gravissima crisi non solo dello spazio pubblico anche del patrimonio edilizio pubblico ecco credo che anche proprio come logica dell'intervento tenere assieme un progetto di trasformazione con un progetto di cura dell'esistente sarebbe un elemento davvero importante diciamo che San Siro è una delle grandi aree di trasformazione urbana della città di Milano e il problema di San Siro come tutte le grandi aree di trasformazione urbana è che l'intervento non dovrebbe limitarsi agli stretti confini della cosiddetta area di intervento cioè a San Siro noi abbiamo un'area di intervento della proposta di realizzazione del nuovo stadio e di sistemazione diciamo degli spazi pubblici che è come dire ridotto a circa 20 ettari che sono le aree attualmente occupate dai parcheggi e dai percorsi di accesso allo stadio teniamo conto che l'area di rilevanza urbanistica di cui si parlava una volta cioè l'area da punto di vista urbano sotto l'influenza in qualche modo dell'evento sportivo è un'area di 500 ettari non di 20 ettari quindi quello che io dico è che l'intervento su San Siro deve essere l'occasione per una riqualificazione diffusa del settore ovest di Milano e quindi non si può limitare a creare come spesso e troppo spesso è stato fatto una sorta di enclave dentro la quale tutto viene rifatto tutto è nuovo in genere con progetti molto autoreferenziali e tutto il resto che è degradato al suo intorno rimanga tale questo non è accettabile secondo me questo è il tema dominante di un progetto come quello di San Siro un progetto come